Stéphane, sei il campeonato, ringrazio e un weekend incredibile. Sì, grazie, ero molto confidante in tutte le ronde. Voglio dire grazie a Card Republic, a mia famiglia che mi supportano. Prima del weekend, aspettavatevi questi risultati? Sì, ovviamente, ho avuto una scelta di domenica e domenica. Qual era il punto clave di questa finale? Stavo lavorando l'esercito tutto il weekend. Grazie e ringrazio! Grazie a tutti!